Contanti o Bancomat? Bancomat. Se anche dovesse rinunciare al contante sarebbe un problema per lei? No, 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 è meglio il Bancomat. Io credo che togliendo i contanti elimini tutto il discorso di giro di soldi in nero. La moneta elettronica piace a tanti, non a tutti ovviamente, se forti sono le resistenze all'addio ai contanti. In Italia si calcola che l'85% delle transazioni avvenga ancora in contanti. Il tormentone torna mentre il governo spinge sui pagamenti con carta. L'ultima è la lotteria degli scontrini elettronici, più biglietti a chi paga con tessera, quindi più probabilità di vincere per tre estrazioni al mese. Tra le misure allo studio anche l'eliminazione delle commissioni sotto i 5 euro, manovra che piace ai commercianti. Comunque il Bancomat anche per un caffè le dice potrebbe valere la pena? Secondo me sì. Quindi non sarebbe un particolare problema? No, perché è un servizio. Per farlo con la banca è meglio, per la forza, per queste cose sarebbe meglio. L'obiettivo della riduzione del contante è chiaro, combattere l'evasione fiscale, che oggi vale oltre 100 miliardi di euro, perplessità dagli esperti contabili. Dovremmo muoverci anche da un punto di vista di abbassamento delle commissioni, quindi di oneri finanziari, che sono una componente economica pesante per le aziende. E poi comunque andiamo anche a toccare le abitudini di tante persone. Crede che in qualche modo qualcuno non voglia dire addio ai contanti? Gli anziani. Quindi anche una questione di anziani? Certamente. Lei invece non è anziano, non ha problemi? No, io sono anziano, però ho lavorato fino a qualche mese fa, quindi sono ancora come se fossi in attività. Non si rischia in questo modo di non rendersi più conto di quanti soldi spendiamo? Non lo so, secondo me adesso è diventata più un'abitudine. Lei si rende conto di quanti soldi spende? Sì, perché abbiamo messaggi sui telefonini, quindi dopo vedi quello che è spesa. No, uno può tenere conto di quanto spende, semplicemente con un'applicazione sul telefono, quindi non credo ci sia questo problema. Il ragionamento degli esperti è chiaro. Il 2019 ha visto l'introduzione della fatturazione degli scontrini elettronici, prima vera prova di tracciabilità. Allo studio del governo una riforma delle detrazioni. Chi paga con carta maggiori ritorni di spese. strada condivisa anche dai commercialisti, sull'esempio delle spese per la ristrutturazione di un immobile, con detrazioni dal 50 al 65%. A livello di spese sanitarie, che a volte sono anche spese per attività e prestazioni specialistiche, vedrei meglio un innalzamento della percentuale di detrazione, che oggi è ferma al 19% addirittura con delle franchigie di spesa.